Dal mio personale benvenuto a tutti, mi presento sono Andrea Dottor e oggi sono qui a parlarvi degli Elchec di Aspen Core, argomento non nuovissimo, assolutamente per nulla nuovo, ma secondo me sottovalutato e questo è il motivo per cui ho deciso di parlarne e portare una sessione in modo che più persone lo possano conoscere. Prima di iniziare vi ricordo l'hashtag della giornata, CodeGen2021, twittate più che potete, fate rumore perché magari riuscite a raggiungere qualche persona che non ha ancora conoscenza dell'evento, se l'ha dimenticato e quindi riusciamo a farla partecipare alle prossime sessioni e seguite la community CloudGen Verona nei vari social. Allora, quanto bello sarebbe avere una sfera di cristallo e poter anticipare gli errori delle nostre applicazioni, perché purtroppo credo sia la speranza di molti di noi per riuscire a capire che qualcosa non va nella nostra applicazione prima che questo qualcosa capiti al nostro utente. Non è mai piacevole quando un utente scopre un errore e noi non lo sapevamo, magari per una dipendenza, magari per un qualcosa che non è nemmeno colpa nostra, ma per un qualcosa che la nostra applicazione effettivamente va ad utilizzare. Direi che l'argomento di oggi risponde effettivamente a questo quesito, motivo per cui l'ho capito io in prima persona e ve ne porto poi la mia esperienza. La risposta alla sfera di cristallo non sono i log. I log sono qualcosa che ci hanno sempre insegnato che devono essere indispensabili nelle nostre applicazioni, alcuni di voi utilizzeranno Serilog, Log4Net, Nlog, i più disparati, ma i log hanno una problematica che ci mettono a conoscenza di eventuali errori, ma dopo che questi sono successi. Quello che voi andate a vedere nei log è un qualcosa che è già capitato all'applicazione, quindi con i log abbiamo un meccanismo per cui riusciamo a ricostruire, se li abbiamo scritti bene, il perché un errore è accaduto. Riusciamo a capire che cosa ha causato un eventuale errore, quindi abbiamo sì delle informazioni che ci sono utili, ma purtroppo queste cose qua sono già arrivate ad un utente, sono già arrivate al nostro applicativo, a una parte del codice, quindi diciamo la figuraccia l'abbiamo già fatta, mettiamola così in alcuni casi. Quindi vediamo di capire come poter intervenire prima e non senza l'uso di log. Attenzione che questo argomento di oggi non è un'alternativa ai log, ma è un modo per cui dovremo cercare che questi log, che i log contengano effettivamente meno errori possibili. L'argomento di oggi sono gli health check, vi ho detto che non è assolutamente un argomento nuovo, perché è stato introdotto la prima volta che ne abbiamo sentito effettivamente parlare, era la preview 1 di Aspenet Core 2.2, quindi veramente un'enormità di tempo fa, ma in tantissime applicazioni che ho avuto modo di vedere non li ho visti mai utilizzare. Che cosa sono gli health check? Sono insieme una composizione di middleware e librerie che permettono di andare a sapere, a conoscere lo stato dell'applicazione e dei servizi che l'applicazione effettivamente utilizza. Nascono principalmente per chi ha dimestichezza con gli orchestratori, Kubernetes, Docker, perché permettono di far esporre ad un particolare nodo lo stato dell'applicazione che ci gira all'interno. L'obiettivo solitamente per cui nascono è il fatto che se l'applicazione dice che non ha in buona salute, che ha qualcosa che non funziona, l'orchestratore può andare a rimuovere il nodo e andarlo a ricreare. Questo diciamo è l'obiettivo per cui nascono. Quello che fanno all'interno è offrire la possibilità di andare a monitorare delle dipendenze della nostra applicazione, come può essere il database, come può essere lo storage, come può essere un qualcosa all'interno del cloud, come può essere addirittura dei dati di sistema. Esempio, provate a pensare, il disco che si riempie, molto spesso ce ne accorgiamo perché l'applicazione inizia a dare codici di errore, oppure il database anche qui non ha più possibilità di crescere ed ecco che lo scopriamo a posteriori ed interveniamo a posteriori. Monitorare queste informazioni prima può essere una cosa utile. Il check non fanno altro, il check di Asprent Core non fa altro che aggiungere un endpoint, una semplicissima chiamata ad un URL che può ritornare nella versione di default tre stringhe. Ilty, degraded e unilty. Che cosa vuol dire? Se l'applicazione è in stato di salute, tutto funziona perfettamente bene, quindi abbiamo lo stato ilty. Degraded vuol dire che magari un servizio da cui dipendiamo, ma che non è essenziale, in quel momento non è raggiungibile. L'ultimo caso è quello da evitare assolutamente, vuol dire che qualcosa non funziona. Magari non riuscite a collegare il database, non riuscite a raggiungere un API che dovreste utilizzare, cose di questo tipo qui. Gli health check vengono valutati nel momento in cui viene invocato questo endpoint, quindi quando voi andate a chiamare l'endpoint avranno tutta una serie di check la cui risultante diciamo fa causare lo stato che ne viene uscito. Di default l'endpoint di Aspenet Core non fa altro che ritornare tre stringhe, quindi non c'è nulla di chissà che sofisticato, però lo andiamo un attimino a vedere quando faremo la prima demo. Che cos'è un health check? Un health check non è altro che una classe che implementa l'interfaccia i health check. C'è un unico metodo da dover implementare e all'interno di questo metodo possiamo andare a ritornare lo stato della nostra applicazione, o meglio lo stato del check che stiamo andando ad implementare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che aspetterà noi andare a scrivere il codice necessario per andare a monitorare le nostre dipendenze. Quindi siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo. Questo diciamo è la versione di default, poi vi faccio vedere delle chicche. Questa classe qui l'andiamo ad aggiungere in fase di startup nel metodo configure per andare a definire che tra gli health check dobbiamo andare a verificare questa classe che noi abbiamo implementato. Quindi tutto sommato le cose sono assolutamente facili ed è il motivo per cui questa demo ve la faccio direttamente live. Quindi vado a creare, vado ad aprire un nuovo viso studio, creo un nuovo progetto di tipo web application, poi vi ingrandisco anche il font, il nome, lascio quello di default, non abbiamo assolutamente nessuna necessità. Aspred core, ultima versione 5.0, ma tra l'altro avete visto che siccome è dalla 2.2, nel caso in cui aveste comunque applicazioni con in uso la versione LTS, la 3.1, potete comunque andare a utilizzare gli health check. Che cosa vuol dire utilizzare gli health check? LTS vuol dire andare ad aggiungere il servizio di health check, quindi un add health checks a livello del metodo configure services. Quindi qui andiamo a definire che abilitiamo la nostra applicazione fa uso degli health check, quindi una semplice chiamata e è già presente questo pacchetto, questa funzionalità all'interno del framework. Non ho referenziato assolutamente nessun pacchetto nugget esterno. Quello che facciamo poi è andare a aggiungere agli end point un map health checks andando a dire qual è l'url su cui voglio sia esposto il check. Quindi aggiungiamo il servizio e andiamo a mappare il relativo end point. Siamo noi tranquillamente a scegliere con quale indirizzo, con quale patto andare ad esporre poi l'url degli health check. Io vado ad avviare l'applicazione, quindi parte del browser. Io non ho fatto assolutamente nulla, ho aggiunto solamente questo servizio. Condivido lo schermo in questa schermata. Quello che faccio è andare a richiamare il percorso che sono andato a digitare. Quello che accade, un bel 500% così, lo vedete bene, è che lo stato che ci ritorna nel check è lo stato ilty. Quindi a tutti gli effetti abbiamo una risposta che ci dice che l'applicazione è salute e ci mancherebbe altro. Nel senso che noi al momento non abbiamo detto assolutamente nulla di che cosa deve controllare. Quindi mi sarei meravigliato se avesse risposto il contrario. Quindi in questo caso qui non sta verificando assolutamente nulla. Quindi motivo per cui lo stato è perfettamente quello di salute. Vado a creare un health check. Creare un health check è creare una classe, io chiamo demo health check, che non farà assolutamente nulla su interno ma implementerà l'interfaccia i health check importo relativo nel space. Faccio implementare l'interfaccia, quindi nulla anche qui di assolutamente complesso. Questo è l'unico metodo che dobbiamo implementare. Calcolate che tramite dependency injection di Aspenet Core possiamo farci iniettare qualsiasi servizio abbiamo già inserito nella dependency injection. Quindi la parte di accesso ai dati, un proxy per chiamare un API, tutto quello di cui avete bisogno ve lo potete fare iniettare tramite dependency injection. Quindi non c'è assolutamente limite al codice che possiamo andare a scrivere qui. Quello che volevo farvi vedere era solamente il caso in cui qualcosa vada male. Quindi abbiamo visto la risposta in caso tutto funzioni bene, perfetto. Vediamo il caso in cui qualcosa funzioni male. Quindi vado a cablare il risultato andando a fare una chiamata a un unhealthy e dico qualcosa non funziona. Mi mettono i panni dell'utente classico che dice qualcosa non va senza dire che cosa. Quindi questo è il codice che ritorno. Immaginatevi che qui ci potete inserire tutto il codice che avete bisogno per testare il servizio, un collegamento database, una tabella che sia popolata, una API remota e poi entriamo in dettaglio in questa parte qui. Io ho creato la mia classe che implementa questa interfaccia, nulla di più. Nella classe di startup dove ho aggiunto l'HellCheck, vado ad aggiungere un AddCheck che punta alla mia classe. Quindi dico agli HellCheck, guarda che c'è da controllare, effettivamente questa classe qui. Gli do un nome all'HellCheck in modo da poter avere un feedback esterno e lo vediamo a breve. In questo modo qui, quando vado a chiamare il mio endpoint di HellCheck, ho ancora, eccolo qui, lo vado a richiamare, vedete che adesso lo stato è effettivamente cambiato. Quindi ho un unhealthy. Quindi qualcosa mi dice che è andato storto, ma problematica, non mi sta dando nessuna informazione. Se io avessi 4, 5, 10 al Check, non saprei quale di questi è fallito. Motivo per cui, secondo me, questo va bene se lo state utilizzando all'interno di Kubernetes, ad esempio, dove lo stato non mi interessa sapere che cosa è andato male, ma l'applicazione non sta funzionando bene e quindi ricostruisco il nodo e quindi sarebbe sufficiente. Tra l'altro significa chiamare un URL e verificare che contenga o non contenga una stringa, quindi direi che è assolutamente semplice e ci riusciamo tutti, ma la vera utilità, secondo me, degli HellCheck è sapere che cosa è fallito. Io voglio sapere che questo HellCheck è fallito. Come lo posso fare? Quando configuriamo il nostro endpoint, il nostro map HellCheck, abbiamo la possibilità di avere una option, delle opzioni qui dentro. adesso ve l'importo come ne spesso in modo da accorciare un po' la firma. Abbiamo la possibilità di andare a specificare al suo interno una funzione che vada a gestire il rewrite della risposta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo scegliere che cosa deve essere ritornato quando qualcuno chiama questo slash health. Nella documentazione trovate varie versioni, ne sono proprio documentazione ufficiale Microsoft, quindi su docs.microsoft.com. Io, per non stare qui a riscriverla da zero, mi sono preparato uno snippet di codice che ho qui nella toolbox. Ho questo write response che adesso vado a utilizzare. quindi ho questo write response che vado a scrivere qui. Allora, questo codice che vedete qui è copiato, incollato dalla documentazione ufficiale docs.microsoft.com nella pagina degli HellCheck. Questa implementazione, adesso l'andiamo un attimino ad analizzare, importo tutti i vari namespace del caso. Questa implementazione qui che cosa dice? dice di andare a serializzare, quando qualcuno va ad interrogare l'endpoint slash health, non fa altro che andare a serializzare in formato JSON, utilizzando system.text.json, la risposta degli HellCheck, il risultato degli HellCheck. Tra l'altro vi viene già passato il report, quindi il risultato degli HellCheck, quando viene chiamato questo metodo, e potete creare il vostro JSON come meglio preferite. Qui avete tutte le informazioni, esempio un HellCheck ha la sua descrizione, ha la sua durata, ha delle informazioni che vengono ritornate, ha dei tags che permettono di raggruppare magari degli HellCheck per alcune tipologie. Questo è copiato in quel lato della documentazione. Nella documentazione trovate due esempi di serializzazione, uno in formato JSON, che è questo che vedete qui, uno in formato in XML. Io adesso vado a richiamare lo stesso endpoint di prima, quindi sto compilando l'applicazione e richiamo, aggiorno lo stesso endpoint, adesso direi che posso zoomare un po' in meno. Guardate adesso com'è cambiato il comportamento. Lo stesso endpoint di prima, che tornava solamente lo stato, in questo momento sta ritornando un JSON. Ed ecco che qui si iniziano a capire le potenzialità. Io posso capire tramite questo endpoint che cosa non funziona. Non riesco a collegarmi al database, perfetto lo so. Non riesco ad arrivare un API, ecco lo so. Il disco inizia a rimpirsi, perfetto lo so. Ma so esattamente che cosa è andato male rispetto a prima. E da qui iniziamo a capire pian pianino la vera utilità degli HellCheck. Quindi prima, tutto sommato, sì, ok, utilità poca, solamente nel caso utilizzasse un container. Adesso iniziamo ad avere un qualcosa che possiamo sfruttare ed agganciare a, diciamo, a degli automatismi, ad altre applicazioni, o comunque un qualcosa che ci torna delle informazioni che sono utili anche a noi che andiamo a leggere. Lo possiamo anche chiamare a mano. È un JSON assolutamente facile da leggere, dove capiamo esattamente che cosa è andato storto. Vi faccio notare che il result non è altro che un dictionary, dove abbiamo il nome dell'HellCheck più le informazioni che abbiamo ritornato. La descrizione, qualcosa non funziona, è un qualcosa che io ho deciso all'interno dell'HellCheck. Quindi vuol dire che voi nella descrizione riuscite a ritornare un messaggio che permette di esporre delle informazioni direttamente dall'HellCheck. Quindi lo spazio libero sul disco, lo posso sapere sia che sia andato bene, che sia andato male. Qualcosa è andato male, dico che cosa è andato male. Quindi posso andare ad aggiungere informazioni come meglio credo. Allora, tutto bello, ma provate a pensarci un attimino. La problematica in questo caso sta nel fatto che se io dovessi crearmi tutti gli HellCheck a manina, ci metterei una vita. Quindi provate a pensare, se io dovessi scrivere una classe per ogni cosa che devo andare a testare, ci metterei un'infinità di tempo. Microsoft ha già pensato, ad esempio, ad una classe che ci promette di andare a testare l'Entity Framework Core. Lo aggiungiamo direttamente quando aggiungiamo gli HellCheck, facciamo questo AddDBContextCheck, passandogli la nostra implementazione del DBContext. Che cosa fa in questo caso questo HellCheck? Quello che fa questo HellCheck è andare a fare banalmente una Select1, quindi andare a verificare che riesca a collegarsi al database specificato in QDBContext. Quella è l'unica cosa che fa. Perché fa solo questo? Perché l'HellCheck non deve impiegare troppo tempo, non deve essere un qualcosa oneroso in questo caso verso il database, deve essere un qualcosa di immediato. Bene, questa Select1 viene fatta prendendo una connessione, eseguendo una query, quindi se funziona vuol dire che il database è raggiungibile e a noi questo è sufficiente per sapere che riusciamo a collegarci. Questo è l'unico HellCheck che Microsoft mette a disposizione. E direte, sì, ma tutte le altre casistiche che cosa dobbiamo fare? Bene, per tutte le altre casistiche ci viene in aiuto un repository su GitHub. Il repository in GitHub è questo, AspNet Core Diagnostic L-Checks, dove all'interno sono presenti tutta una serie di librerie, ma veramente ve le ho elencate qui, è un copia e incolla dalla documentazione, dal README, di questo repository, delle tecnologie dove diciamo sono già presenti dagli HellCheck. Presumo che gran parte delle tecnologie che voi utilizzate nei vostri applicativi sia presente all'interno di questa lista. Almeno questo copre gran parte delle cose che utilizzo di solito. SQL Server, che sia anche SQL Azure, la parte di storage su Azure, il Service Bus, un Signalar, anche Fire, veramente c'è di tutto e di più. Quindi provate a pensare ai vostri applicativi, che cosa state utilizzando ad oggi e cercate in questa lista. O aprite direttamente i repository su GitHub è andato un po' a guardare. L'unica cosa, l'unica nota che vi faccio presente è che questo repository non è un repository mantenuto da Microsoft. Quindi qui dietro c'è un altro sviluppatore, però c'è da dire che i pacchetti sono mantenuti, aggiornati, corretti. Vedo che risponde molto di frequente comunque agli vari issue, agli vari suggerimenti e quindi tutto sommato sono anche una garanzia. Nessuno vi vieta comunque, se trovate un errore, di proporre una correzione, visto che siamo subitati, i progetti sono open source e se non trovate una certa tecnologia che magari interessa a voi, magari potete proporre di essere voi ad implementarlo. Quindi muovervi in prima persona e dire, chiedere se fosse interessato ad aggiungere a Mari un determinato check per una tecnologia che magari manca. Quindi, Mari, proporci noi per fare un qualcosa del genere. Nel caso, diciamo, mancasse in questa lista, ma credo che gran parte delle cose siano assolutamente implementate. Io ve ne porto alcuni esempi che secondo me sono di estrema utilità e sottovalutati. Uno è quello che riguarda le informazioni di sistema. Perché dico sottovalutato? Perché mi è capitato più volte di vedere degli applicativi non rispondere perché il disco è andato, si è riempito. Magari qualcuno si è dimenticato un log che andava a logare il mondo e questo ha riempito il disco. Qualcuno ha spostato un backup in un'altra unità per poter fare un backup più aggiornato e si è dimenticato di ripristinare, di spostarlo o cose di questo tipo e il disco si è riempito. Il problema è che il disco, una volta che si riempie, causa comunque il fatto che l'applicazione non vada a rispondere e molto spesso non lo andiamo a monitorare. Motivo per cui possiamo andarlo invece ad aggiungere semplicemente con una riga di codice. Una nota, un suggerimento. Se voi utilizzate questo add disk storage L-check, state utilizzando un unico L-check e ogni add drive lui fa in modo che all'interno dello stesso check vada a controllare lo spazio di più dischi. Problematica, vi trovate un unico L-check con un unico nome dove nella descrizione vi vengono riportate le informazioni di cosa è fallito. Se voi invece andate ad aggiungere più add disk storage L-check e ognuno di questi punta ad una precisa unità, ecco che potete aggiungere un L-check dove dite disk storage underscore C, disk storage underscore D e via discorrendo e siccome è un po' di più facile lettura o almeno avete a colpo d'occhio cosa, quale disco si sta riempendo. Quello è un pochettino il mio suggerimento. Poi trovate la vostra quadra, provate e sperimentate. Tra l'altro nessuno vieta di utilizzare direttamente la classe del framework che vi permette di sapere quali sono i dischi fissi del server in quel dato momento e aggiungerli tutti in modo dinamico, che è un'altra cosa assolutamente utile. L'unica cosa che magari in alcuni dischi non ha senso controllare magari un giga di spazio libero, vi serve meno per monitorare la cosa. Comunque diciamo che questa è la possibilità. L'altra cosa sono gli ultimi due, le ultime due voci di questa slide. Uno è verificare che un processo sia in esecuzione, l'altro è verificare che un servizio sia in esecuzione. Quante volte dipendiamo magari dal fatto che ci sia, che ci debba essere magari una VPN tra il server e qualcos'altro? O un servizio che faccia da proxy verso un servizio di terze parti? Ecco, in questo caso possiamo monitorare. Sono servizi che solitamente non avremmo controllato. diamo per scontato, avremmo controllato quando il log ci dà l'errore che non riesce ad arrivare a quell'API, ecco che magari andiamo a verificare la VPN. In questo caso possiamo direttamente andare a monitorare che quel servizio sia attivo o meno. Come lo facciamo? Banalmente una riga di codice. Quindi questo è la potenzialità degli L-check. L'altra cosa, Maexo ci espone il L-check per l'entity framework core, ma magari noi non stiamo utilizzando l'entity framework core, stiamo utilizzando magari Dapper o RepoDB, che sono quelli per cui, diciamo, ultimamente sto utilizzando più di frequente. Ecco che qui abbiamo un L-check per SQL Server, dove possiamo essere noi a selezionare, ad andare a dire addirittura qual è la query eventualmente che deve essere eseguita. Vi faccio notare anche una cosa. Questo L-check non fa altro che dire nel caso in cui la query vada in errore, quindi ci sia un'esezione, ritorno allo stato di failure. Lo stato di failure può essere modificato anche come degradato, quindi magari l'applicazione funziona, magari qualcosa non va. Vi faccio notare una casistica. Vi è mai capitato che magari il vostro applicativo abbia bisogno o dipende da un'importazione giornaliera di un applicativo esterno? Ecco, provate a immaginare. Voi potreste inserire in questo L-check un account, un qualcosa che vado a verificare se una data tabella ci sono delle righe con la data corrente, con la data di oggi, e altrimenti genera un'eccezione, fa un rise event e solleva la problematica. Ecco che quello può essere un L-check che non è verifico solo la connessione, ma verifico che in una tabella ci siano i dati di cui effettivamente ho bisogno. E lo potete fare con questo L-check. L'unica cosa, la query deve ritornare un errore. Quindi un rise event è quello che mi viene in mente assolutamente da poter fare. Quindi non verifico solo la connessione, ma posso anche verificare un qualcosa in più, una dipendenza. Altra casistica. Quante volte utilizzate un servizio esterno, un API, ma non vi siete mai posti di verificare che sia raggiungibile? Questa secondo me è una problematica di quando deployate l'applicativo per la prima volta in un server. A me è capitato ancora di deployarlo fin tanto che sono in staging, tutto funziona bene. Quando lo deployo in produzione non mi accorgo che quell'url non è raggiungibile perché magari il firewall o l'azienda appunto che gestisce il server non ha aperto il firewall in modo che vi possa raggiungere quel particolare indirizzo. E lo scopro solamente quando qualcuno andrà a utilizzare per la prima volta quel pulsante che fa quella chiamata, magari la firma di un documento e il caricamento di un qualcosa in remoto. E purtroppo è una cosa che lo scopre l'utente perché fin tanto che eravate, magari, in staging, in test, tutto funziona bene, ecco che in produzione questa cosa non la sapete. Particolarità, attenzione, non chiamatemi un url che ritorni, che ci metta molto tempo a essere eseguito. Chiamatemi un url che risponda molto veloce, magari un API che ritorni la data e ora del server, cioè magari alcuni servizi esterni ritornano un servizio, una chiamata di test che vi ritorna, sono in piedi o vi ritorna la data del server, un qualcosa di molto veloce. Nel caso non ce l'avesse io mi baso su un metodo di get che sia veloce, che io abbia un risultato sicuro. Certo è che non è un errore perché se l'unica cosa che viene controllata in questo caso è se abbiamo uno status code di errore quando viene eseguita questa chiamata. Questa è l'unica cosa che viene controllata. Ultima operazione che vi propongo come, diciamo, come punto di riferimento, di pensiero per l'utilizzo del check, sono anche i job in background. Io sono un amante di Angfire, per anni ho utilizzato Quartz, che secondo me è la controparte, diciamo un'alternativa. Angfire, a differenza di Quartz, ha il vantaggio di avere anche una sua UI, ha il vantaggio di avere un pannello di controllo che ci dà informazioni sui job in esecuzione, sui job che sono stati eseguiti e sui job che dovranno ancora essere eseguiti. Problematica, se abbiamo dei job in background, come facciamo a sapere se effettivamente stanno andando a buon fine, oppure no. O siete stati così bravi da mettere effettivamente un try catch all'interno di tutti i job e loggare un'eventuale eccezione, e quindi ok, lo sapete. Oppure avete una persona che va periodicamente a vedere l'interfaccia di Angfire per vedere se ci sono stati errori. Bene, questo pacchetto vi risolve la problematica. Questo pacchetto fa sì che voi veniate notificati tramite il check, quindi il check va a monitorare, direttamente dell'API di Angfire, per vedere se ci sono dei job falliti. In questo caso specificate il numero di job per cui sollevate l'eccezione. Visto che tanto che Angfire ha la possibilità di fare comunque dei retrai, in questo caso dico se ho 5 job falliti, segnalo l'errore e quindi evidenzio la cosa. E ecco che abbiamo un'altra assolutamente estrema utilità, perché job in background assolutamente non andiamo quasi mai a controllare. Vi faccio vedere alcune casistiche. Io ho un'applicazione in questo caso in Esser che sto sviluppando da un po', a dire la verità da poco tempo. Allora, prima cosa, gli al check non mi piace metterli tutti quanti direttamente nel file di startup, perché questo? Perché il file di startup, il metodo Configure Service diventerebbe estremamente lungo e di difficile gestione con un'applicazione reale e complessa. Cerco di spezzettare le parti di configurazione in degli extension method che vanno ad estendere ai service collection. Così ho un mio add core elchecks, dove ho tutta la mia configurazione degli elchecks. In questo caso ho il fatto di utilizzare un database SQL Azure, quindi utilizzo la stringa di connessione, faccio la classica select 1 e do uno stato, in questo caso di anelti, perché per me è primario che ci sia questo database, non si scappa assolutamente da qui. Controllo Ancfire, perché in questo caso è l'applicazione, in questione è il sito web per il podcast, quindi per .NET in pillole, sto facendo un portale dove andare poi a centralizzare la parte di commenti, materiali ed altre risorse e quindi ho un job in background che mi esegue l'importazione da Spreaker al mio database SQL Server. Quindi ho bisogno di sapere che l'importazione funzioni bene. Magari non mi serve che sia anelti perché potrebbe bastarmi anche un degraded in questo caso, perché se l'importazione non va tutto sommato, i job, i podcast li ho già importati, ne faccio una settimana e quindi diciamo ho una settimana per eventualmente intervenire. Ho comunque un data contest dell'entity framework. Vi ricordo che le vostre applicazioni, sebbene andate a utilizzare magari da per FODB o da altre tecnologie, magari state utilizzando Aspenet Identity e Aspenet Identity sfrutta Entity Framework Core, motivo per cui conviene testare anche l'entity framework core in modo separato, ho un L-check interessante e questo ve lo faccio vedere, che mi va a monitorare in questo caso l'home page del portale, un altro L-check che mi va a monitorare in questo caso i servizi di Spreaker utilizzati da job in background. Problematica, i servizi di Spreaker, Spreaker ha delle API, è il provider con cui diciamo io vado a pubblicare i podcast, Spreaker ha delle API ma non ha un metodo pubblico che mi torni diciamo solamente un true o false, una data, un qualcosa di assolutamente banale. Quindi che cosa vado a fare? Vado a fare banalmente la chiamata all'API che utilizzo, quindi l'elenco degli episodi del mio podcast, ma la limito a uno. Quindi mi aspetto che la risposta sia veramente molto veloce perché mi deve tornare solamente l'ultima puntata del podcast. Sono certo che mi torna dei dati perché comunque avendo più di un anno di storia le puntate ci sono di certo, quindi questa chiamata non deve assolutamente fallire e è quello su cui mi baso tutto quanto. L'Hell check che vi volevo far vedere poi è questo il check. Questo è un check molto utile, permette di verificare che l'home page dell'applicazione corrente contenga una determinata parola o frase, scegliete voi. Io ad oggi il portale in costruzione, quindi l'ho messo con una parola sbagliata in questo contesto. L'idea cos'è? L'idea è di trovare all'interno dell'home page una parola di quelle generate andando a inserire i vari episodi del podcast, esempio vai al dettaglio, quindi solamente se la lista è popolata ci sarà almeno una volta il vai al dettaglio o ascolta il podcast, ascolta la puntata. Quindi andare a cercare una parola generata andando a leggere la lista di podcast. Perché la vado ad utilizzare? Perché se non c'è quella parola vuol dire che non ho ritornato l'elenco degli episodi e se non ho ritornato l'elenco degli episodi è un problema, visto che ne ho parecchi registrati e mi aspetto che almeno quelli paginati della prima pagina siano presenti. Quindi questo è un check che mi fa capire che o c'è un problema con la parte di accesso ai dati che non mi ritorna qualcosa o l'home page è andata in errore e mi sta tornando magari una view sbagliato dell'HTML sbagliato e quindi in qualche modo devo andare a intervenire. Quindi vado a verificare che quella determinata pagina contenga una parola. Questa è l'implementazione del check alta sync dove non faccio altro che passarmi un'interfaccia che mi promette di andare a recuperare la richiesta HTTP corrente e ho l'HTTP Client Factory per fare la chiamata HTTP e quindi sono all'interno di un comunque di un contesto HTTP e verifico quello di cui ho necessità. Questo come l'ho fatto io con un page lo potete fare tranquillamente con qualsiasi altra pagina o vostra dipendenza dipende dall'applicativo che effettivamente dovete andare a fare. Però creata questa classe io nel mio extension method sono andato ad aggiungere banalmente questo ad singleton. Questo diciamo è il trucchetto di sorta. Il fatto di aggiungere diciamo questo, no scusate non questo, mi sono sbagliato. Eccola qui, l'ad check. Quello è un argomento che vediamo dopo questo publisher che abbiamo qui in coda. Questo qui, ad check, home page ad check dove gli ho dato un nome che è questo home page. Questo diciamo un pochettino tutto quanto al giro per andare a sfruttare gli el check. Quindi ognuno va a scegliere effettivamente quelli che sono gli el check necessari al proprio applicativo. Avete servizi esterni? Bene, monitorate tutti i servizi esterni. Utilizzate MongoDB, utilizzate SQLite, potete andare ad aggiungere qualsiasi informazione di cui abbiate necessità effettivamente. Vi faccio vedere poi direttamente la cosa, vado a chiamare questo indirizzo, un attimo, slash alt, tra l'altro alt z in questo caso. Il perché dell'alt z lo vediamo a breve, ma sto ritornando un json, lo stato anilty, il motivo di questo anilty è un errore per quanto riguarda hangfire. Hangfire ha fallito dei job, quindi il motivo è questo hangfire. Il json è formattato in modo differente da quello di prima perché sto usando un serializzatore diverso. Questa è l'unica ragione. Tra l'altro viene esposta anche la durata e vengono esposti anche eventualmente i tag che corrispondono a un dato del check. In questo caso vedete hangfire e lo stato è anilty, quindi mi dice che qualcosa non sta andando con hangfire, quindi ho una risposta. Quindi a colpo d'occhio, magari non con un json così, ma magari formattato, posso sapere esattamente che cosa non va. Attenzione, una cosa, io posso esporre anche più endpoint che supportino serializzazioni diverse, quindi un alt z che ha questa serializzazione, un alt che ne ha un'altra e via discorrendo. Magari uno per json, uno per xml, dipende da come voi poi andate a sfruttare questo genere qui di informazioni. Andiamo di passare avanti. Nel solito repository di el check, nel solito repository su github esiste un pacchetto nugget e comunque un progetto che è un po' diciamo fuori dal, non dico fuori dal contesto degli el check, ma secondo me è estremamente importante per chi vuole utilizzare gli el check. Troviamo un pacchetto nugget, che è questo el check.ui, che offre un'interfaccia utente per poter andare, in questo caso, a centralizzare, o meglio non è solo l'interfaccia utente, è interfaccia utente più un background service che permette di andare a monitorare in background degli el check di altri applicativi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che potete realizzare usando questo pacchetto nugget, potete realizzare un'applicazione di monitoraggio, un'applicazione che centralizzi il controllo degli el check di tutte le applicazioni che avete al di fuori. Quindi immaginatevi di avere un'applicazione deployata per ogni cliente, bene, qui dentro potete controllare gli el check di tutte quelle applicazioni. O avete N applicazioni che state utilizzando, bene, qui dentro ci agganciate, ci inserite tutti gli el check di quelle applicazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che voi scaricate un pacchetto nugget, andate a inserire nome e url il nome è ad esempio quel endpoint 1, endpoint 2 qui, utilità ben poca. Comunque andate ad inserire un nome per ogni el check e l'url di chiamata di quel el check, tipo quel slash eltz che avete visto prima. L'unica particolarità è che quel endpoint deve essere, deve utilizzare un serializzatore JSON particolare che è all'interno di un pacchetto che si chiama aspectcore.elcheck.ui.client, ma ve lo faccio vedere poi comunque nel codice, perché ritorna un JSON con una particolare struttura che è quello che il servizio in background va a leggere. La cosa ancora più carina di questa interfaccia qui è che se voi aprite il dettaglio di un el check, o meglio di un el check all'interno di un particolare endpoint, avete anche lo storico. Potete andare a scegliere il database che meglio preferite per andare a storicizzare tutte le informazioni di quando quel el check ha avuto successo oppure fallito. Io nel mio caso utilizzo Azure SQL, quindi in qualsiasi SQL server va benissimo, accetta Postgre, accetta SQLite, può ottenere le informazioni in memoria, vuol dire che quando l'applicativo riavvia vengono svuotate, ma magari voi non avete necessità di avere chissà quante informazioni. L'unica nota negativa che vedo io è che queste tabelle non vengono pulite, quindi aspetta a voi eventualmente fare pulizia dello storico, magari togliere i record, magari più vecchi di un anno, in modo da avere meno record all'interno. Però diciamo che ha eventualmente un parametro di configurazione dove potete decidere quanti record va ad estrarre questa interfaccia per quando vi fa vedere lo storico, quindi tutto sommato non è assolutamente male. È fatta, se non sbaglio, con React, ma questo poco importa perché lo includete come pacchetto e funziona in autonomia. Può essere personalizzata come stili grafici e l'unica nota negativa o positiva, diciamo positiva per la facilità di utilizzo, negativa per le limitazioni, però siamo nel 2021 quindi non dovremo porci chissà quanti problemi, è che fa uso delle variabili dei CSS. Le variabili dei CSS non funzionano con Internet Explorer. Perché dico che non è un problema? Perché un'applicazione del genere non la date in mano al cliente finale, ma è un'applicazione che utilizzate voi internamente per monitorare le applicazioni. Quindi tutto sommato ci sta che chi accede a questa applicazione abbia un browser moderno e non mi aspetto assolutamente nessuna remora o qualcuno che mi dica il contrario su questo. Quindi è un falso problema. Vediamo di vedere questo L-Check UI. Allora, l'interfasso di L-Check UI, io ho creato un'applicazione di monitoraggio. L'applicazione di monitoraggio ha anche qui una sua parte di configurazione degli L-Check, dove al suo interno, a differenza degli, oltre diciamo agli L-Check che controllano il suo storage, vedete in questo caso sto controllando la connessione a database e sto andando a controllare anche lo spazio su disco. Giusto per farvi vedere un esempio. Qui utilizzo una funzione del framework che mi permette di recuperare tutti i dischi e se si tratta di un disco fisso lo vado ad aggiungere andando a monitorare quando mi va sotto il giga. Quindi questo per me diciamo è eventualmente un vincolo. Questa riga ad L-Check UI è la riga che permette di aggiungere il servizio di L-Check UI con il servizio in background e il map L-Check UI, questo offre l'endpoint per andare a ritornare a gestire la parte di UI che di default risponde a L-Check UI digitato nell'URL. Per esporre l'endpoint utile, utilizzato dal L-Check UI, dovete utilizzare questa particolare funzione che è all'interno, vi ho detto, di quel pacchetto che finisce per .UI.client. È un pacchetto Nougat che all'interno ha solamente questo metodo perché ovviamente si aspetta un JSON con una firma ben precisa. Io che cosa faccio in questo progetto? Sto andando a aggiungere L-Check locale da codice e da configurazione negli app settings vado ad aggiungere gli L-Check remoti. In questo caso ho la dinamicità di poter aggiungere da configurazione senza dover ricompilare l'applicativo. Quello locale invece so di averlo sempre sott'occhio e quindi lo vado ad aggiungere in questo modo qui. Allora adesso vi faccio vedere l'interfaccia e poi parliamo un attimino della personalizzazione. In questo caso è un'applicazione che richiede autenticazione. È un attimo che la zoomo, prima avevo zoomato un po' troppo, quindi richiede autenticazione. I colori sono dei colori che ho scelto io, diciamo, per l'applicazione corrente. Ho un link che mi punta alla parte di L-Check UI. Questa è la mia applicazione. I servizi locali girano perfettamente, quindi lo spazio su disco non ho assolutamente problemi. SQL non ha assolutamente problemi. Vedete però che l'applicazione del podcast di prima, guardate, ho i mail check che sono andato effettivamente ad aggiungere, a monitorare, ho eventuali tag che mi permettono di raggrupparli in modo da capire di che categorie e di cosa stiamo parlando, eventuali durate. Non mi piace molto questa data scritta così, ma vabbè, siamo programmatori e purtroppo anche noi ogni tanto qualcosa ci scappa. Il bello è che qui la data è perfetta, sulla sinistra non tanto, quindi d'accordo, un qualcosa da sollevare, far presente eventualmente o da coraggiare noi all'interno del pacchetto, ma vi faccio vedere poi il dettaglio. Il dettaglio ci apre lo storico con, vedete, in questo caso avevo lo stato di salute, avevo un problema di login, in questo caso con un utente AA, perché volutamente l'avevo sbagliato e poi qui in questo caso ha un problema effettivamente da verificare che è dovuto effettivamente ad Anfire, che ha un qualcosa in background, una problematica in background. Attenzione, una cosa, questo polling interval riporta il tempo che voi avete messo di polling degli mail check esterni. Adesso lo vediamo in configurazione. Questo stop polling non vuol dire che gli mail check non vengono più configurati, ma questo stop polling dice all'interfaccia utente, all'applicazione, in questo caso esposta, di non andare a chiamare il suo servizio, le sue API in background e quindi rimane con questi valori qui. Questo valore, fino a che se siete in test va benissimo 30 secondi, quello che consiglio io di solito è di portarlo a valori ben più alti, ad esempio io lo vado a testare ogni 5 minuti, dipende poi dalla gravità di cosa andate a controllare, però andare a verificare se un servizio è giù, diciamo che lo faccio all'avvio dell'applicativo e poi ogni 5 minuti a me va benissimo e non ogni 30 secondi. Questo parametro lo potete mettere fisso nel codice oppure lo potete mettere direttamente a livello di configurazione, quindi negli app settings .json può essere portato all'interno della sezione el check UI, quindi come meglio preferite, diciamo meglio la configurazione per poterlo cambiare nel tempo e non rimane fisso nel codice. Per quanto riguarda gli stili, quando noi andiamo a definire la parte di UI abbiamo questo add custom stylesheet. Attenzione, questo punta a un foglio di stile. Il foglio di stile non viene ritornato come link alla UI, ma viene letto e mergiato praticamente unito al foglio di stile che poi viene ritornato nella pagina. Quindi l'URL che mettete qui è lato server, l'URL, diciamo il path che mettete qui è lato server, non viene utilizzato lato client. Io nel progetto corrente che riguarda solamente il monitoraggio delle applicazioni l'ho messo nella root, in altri progetti dove il monitoraggio delle applicazioni è un di cui è solamente una delle funzionalità, comunque sono andato a inserirlo all'interno della vvroot css anche se veniva letto lato server e non veniva servito come file statico. Quindi l'unica cosa per avere un po' di ordine non avere css sparsi in giro. In questo caso abbiamo delle variabili che ci identificano i colori dell'interfaccia, eventualmente il logo dell'applicazione. Io ho utilizzato un logo che mi piaceva per il fatto dell'applicazione di monitoraggio, poi sono andato a modificare alcuni stili perché il logo di default era rotondo, io lo volevo invece quadrato, quindi questo era un altro vincolo di sorta che mi sono posto, quindi ho cambiato gli stili come meglio credo. Non c'è moltissima documentazione a riguardo di questi CSS ma potete andare a vedere tutto a pubblico su GitHub come è fatto il CSS originale o aprite la toolbar del browser e ve le andate a leggere, quindi nulla di chissà che difficoltoso per andare a capire come andare a scrivere dei CSS, però diciamo un po' di più documentazione non sarebbe stata male, ma diciamo che non è assolutamente malvagia. Nota negativa, l'unica cosa che ho notato è l'impossibilità di aggiungere eventuali altri link qui sulla parte sinistra. Mi sarei aspettato magari una possibilità di aggiungere un link all'home page del portale. Ho risolto la cosa aprendo l'URL corrente su una nuova tab invece che sul tab corrente in modo che mi rimanga la pagina aperta di dove mi trovo. Questo è l'unico vincolo diciamo che mi sono opposto. Qui vedete il belloghetto che sono andato ad utilizzare, quindi queste diciamo sono le uniche particolarità secondo me degne di nota. Però l'interfaccia utente è estremamente comoda, fatta bene, i dati storicizzati e l'aggiunta quando aggiungete l'HellCheck UI oltre a configurarla andate a decidere qui qual è lo storage. Quindi facilità assolutamente, o meglio non trovo assolutamente nessuna difficoltà e le tipologie di storage supportate anche qui sono molte. Veramente lo sviluppatore merita i più felici complimenti perché è veramente un bel lavoraccio. L'interfaccia poi richiede autorizzazioni e a questo require authorization. Quindi non è esposta se l'utente non è autenticato. Eventualmente potete anche fare una policy come è capitato diciamo in alcune implementazioni che ho fatto da clienti dove è accessibile solamente da utenti che hanno un particolare ruolo. Questo diciamo come vincolo di sorta. Queste erano tutte modalità dove abbiamo una dove esponiamo degli HellCheck e qualcuno va a monitorare questi HellCheck. Bene, sappiate che esiste anche la possibilità di lavorare al contrario. Quindi fare in modo che la nostra applicazione possa pubblicare in modalità push quindi i risultati degli HellCheck all'esterno. Dobbiamo solamente implementare, realizzare una classe che implementi HellCheck Publisher. In questo caso abbiamo un metodo che viene richiamato di default ogni 30 secondi e quindi quando voi passate una classe tramite Dependence Injection, un singleton che implementa questa interfaccia, si attiva un servizio in background che ogni 30 secondi va a monitorare gli HellCheck, vi porta, vi chiama un metodo passandoci il report e potete fare quello che volete. Quindi potete essere voi a inviare una mail in caso di errore, inserire i dati su una API esterna, scegliere voi che cosa andare a fare. È possibile configurare questa parte qui tramite questi quattro parametri. Lei definisce dopo quanto, dopo l'avvio parte l'applicazione. Il secondo è il tempo ogni quanto, è l'intervallo ogni quanto vengono valutati gli HellCheck. Il Predicate è carino, permette di filtrare gli HellCheck che vengono valutati nella modalità, questa qui del Publisher. Quindi magari non tutti, ma una parte voglio che vengano valutati ogni 30 secondi e li spedisco all'esterno e un time up che di default è 30 secondi perché altrimenti ecco che si andrebbero ad accodare e ci sarebbe un problema. Questa è una semplice implementazione che trovate anche all'interno del mio codice, che poi comunque trovate tutto quanto online. Vedete che c'è questo Publisher Sync che ha questo health report che potete utilizzare per andare a fare tutto quello che volete. Quindi in base al risultato del report potete prendere le vostre decisioni e scrivere voi il codice necessario. Nella parte in basso a destra del codice invece trovate le opzioni per andare a modificare i tempi diciamo di diciamo di ogni quanto tempo viene eseguita questa applicazione. Esistono però all'interno dello stesso repository GitHub quattro implementazioni per Azure Application Insight e tre aziende, tre prodotti che già fanno questo servizio di centralizzare di solito i log di un applicativo ma a quanto pare possono centralizzare anche la parte di HellCheck di un applicativo. Quindi per chi di voi già li utilizza sappia che l'applicazione può già pushare i dati in questi servizi qui. Quindi direi costo zero e si possono utilizzare un pacchetto da installare e si va a configurare. Ma la parte più interessante secondo me sono i webbook. I webbook offrono la possibilità dalla HellCheck UI, quindi da quella UI, di andare a notificare il cambiamento di stato degli HellCheck direttamente su un servizio esterno. Ad oggi dove abbiamo tutti, utilizziamo generalmente Teams o Slack o cose del genere. Ecco che sul nostro programma aziendale possiamo avere notifiche dello stato dei nostri applicativi. SendGrid permette di inviare una mail. Zapier o IFTTT permette di far avvenire altre azioni quando viene invocato un webbook. E la cosa è estremamente facile. Allora, io vi faccio vedere l'integrazione con Teams. Non riesco a farvi vedere direttamente da Teams perché sto facendo la live in questo momento, ma si tratta di abilitare il connector incoming webbook dove voi andate a dare un nome al webbook, al bot che volete che riporti il messaggio di errore, quindi un nome parlante, l'immagine. Io ho usato la stessa identica immagine che ho usato nell'applicativo in modo di avere l'associazione per chi va a leggere gli errori. Questa è la configurazione da Teams. Vi viene generato un URL con tutte le informazioni per puntare a quel particolare channel e già autenticati, quindi un URL che chiunque può fare una post e scrivere. La configurazione in elcheck UI è questa qui. Il leggibile in questo contesto, comunque sappiate che voi avete un nome del webbook, l'URL a cui puntate, il payload che viene, il JSON che andate a fare post in caso di errore e l'altro payload nel caso in cui ritornate a uno stato di ok. vi porto però una versione leggibile di quel JSON lì in caso di errore. Quello che notiamo qui è che ci sono degli elementi con quelle parentesi quadre che sono dei placeholder che vengono rimpiazzati. Quello che permettono di fare è avere un messaggio che ci dice quale applicazione è fallita e poter intervenire. L'altra cosa carina di Teams è che ci permette di aggiungere dei pulsanti che in questo caso aprono direttamente la mia applicazione. quindi sto dicendo se questa applicazione qui ha un problema vai a vedere sull'applicazione di monitoraggio che problema ha avuto e queste sono le notifiche. Da visit localhost il nome che ho dato all'endpoint vedete l'errore e il messaggio dopo ci va invece a dire che quello stato è tornato ok. Quindi assolutamente di estrema utilità. Ultimissima cosa poi passiamo alle conclusioni. Nell'applicazione di El Check ho fatto vi offro anche un altro del codice per un'altra paginetta perché gli El Check oltre alle El Check UI sappiate che gli El Check potete esporli direttamente anche all'interno di una pagina. Questa è una Razor Pages che ritorna allo stato degli El Check. In questo caso è con sfruttando Bootstrap e il codice per fare questa cosa è nella pagina di status. Si fa iniettare un El Check Service. Questo El Check Service permette di eseguire El Check in questo dato momento. Ci viene ritornato il solito report che è quello che possiamo utilizzare per pubblicare i messaggi o per ritornare il JSON da quel particolare endpoint. Bene, questo report qui l'ho dato in pasto alla mia pagina dove vado a ciclare tutte le entries e dico lo stato di ogni servizio. Quindi immaginatevi la solita applicazione, solita, non solita, ma la classica applicazione, la classica pagina dove mettete lo stato dei servizi che compongono la vostra applicazione. Quindi magari se utilizzate un qualcosa microservizi possono essere tutti i microservizi che compongono l'applicazione corrente e io centralizzo lo stato di ognuno. Andando in questo caso utilizzato i badge di Bootstrap per far vedere lo stato di ogni singolo servizio. Secondo me è un aspetto molto carino, in questo caso ci svincola dalla UI di El Check UI, ma abbiamo la gestione, la visualizzazione grafica degli El Check dell'applicativo corrente. Quindi molto simpatica e secondo me immediata da gestire. veniamo alle conclusioni. Un attimo. Ok, veniamo alle conclusioni. Siccome gli El Check sono sottovalutati, ma perché credo gli utenti vedano solamente la parte di risposta come stringa e non il fatto di poter cambiare la risposta dell'endpoint dando tutte le informazioni degli El Check, ma sono di estrema utilità, facili da utilizzare, immediati perché avete visto il codice che ho scritto veramente poco e permettono di integrarci con strumenti esterni, anche qui poche righe di codice e soprattutto offrono una modalità di sapere eventuali errori in modo proattivo. Non siamo noi a dover entrare e andare a leggere se ci sono problematiche, ma abbiamo l'applicazione che notifica direttamente il nostro strumento quotidiano, magari Teams, o magari inviandoci una mail e avvisandoci che in qualcosa non va prima che lo scopra l'utente. E secondo me è la cosa importante, è la cosa per cui sto iniziando ad adottare gli El Check in quasi tutti gli applicativi, perché poter anticipare l'utente su queste cose qua è fondamentale ad oggi, soprattutto sapendo che abbiamo uno strumento che ce lo fa a gratis. El Check UI è un buon modo per partire e centralizzare le informazioni e sappiate che appunto da qui possiamo fare quello che vogliamo. Un utilizzo degli El Check che non vi ho parlato in precedenza, ma siccome è una comodità, è agganciarlo anche a una pipeline di pubblicazione. Io pubblico l'applicativo e vado a interrogare gli El Check per vedere che la pubblicazione sia avvenuta con successo e quindi che tutti i servizi siano effettivamente andati, funzionino correttamente. Quindi motivo per cui ve ne parlo e continuerò a parlarne di questi El Check per un bel po' perché siccome li vedo poco utilizzati, ne vedo parlare poco, li vedo poco negli applicazioni dei miei clienti e quindi direi che è un buon punto di partenza l'evento di oggi. Vi ringrazio di avermi seguito in questa sessione, adesso vediamo se ci sono delle domande e vi lascio poi i miei riferimenti. Comunque mi trovate bene o male in tutti i social e vi ricordo seguitemi anche nel podcast.net in pillole. Grazie mille. Allora, forse me lo sono perso. La frequenza di esecuzione dei vari El Check è configurabile e differenziabile. Non è differenziabile per Check nel senso che c'è un'unica frequenza che viene impostata e quella vale per tutti gli El Check. Nel senso che tutti gli El Check vengono valutati in sequenza nello stesso momento. Quindi è possibile cambiare quella tempistica lì e non uno per uno. Ok. Le El Check sono disponibili solo con Netcore. Altra domanda. Allora, in questo caso qui ho visto che ci sono dei pacchetti generici, ma onestamente non ho nemmeno provato l'integrazione. Più che altro perché in questo caso parliamo di middleware che girano in background, concetti che non avevamo in precedenza in altre versioni del framework. So di aver visto dei pacchetti che non avevano la nomenclatura a SpNet Core, ma solamente non mi sono mai posto il problema. Quindi presumo che la cosa sia, diciamo che in qualcosa sia già stato implementato, perché se esistono i pacchetti in qualcosa c'è. Non so però quanti El Check si possono trovare già pronti che li vanno ad implementare. Allora, come consigli di implementare delle chiamate El Check in un'applicazione deployata in Google Cloud? Allora, onestamente non ho mai deployato un'applicazione in Google Cloud. Diciamo, se mi fai una domanda un po' Allora, io presumo che facendo il publish vediate le domande. Questa qui è la domanda. Quindi come consigli di implementare delle chiamate El Check? Allora, non so onestamente per la parte di Google Cloud. In questo caso, se ha qualche El Check aggiuntivo, perché ovviamente quelli che sto utilizzando io sono quelli che trovate in quelle liste. Non so se intendi servizi che dipendono da Google Cloud o da applicativi installati in Google Cloud. In quel caso uno non fa altro che come li vado ad utilizzare, eseggo una chiamata per testare usando il minimo di risorse possibili. Se per te è chiamare qualcosa che sta all'esterno, è quello El Check UI. Quindi espongo un endpoint verso l'esterno che è quel ELT Z che poi centralizzo in un'applicazione esterna che va a farne la parte di monitoraggio. Poi, casomai, se era qualcosa di più specifico, vi ricordo, tramite i contatti, i riferimenti mi potete scrivere senza problemi e poi approfondiamo eventualmente la cosa. se non ci sono altre domande. Comunque, ripeto, i riferimenti sono pubblici, penso che di contatti miei li trovate praticamente da qualsiasi parte, quindi scrivetemi senza problemi. Le slide le pubblicherò a breve su SlideShare e il codice trovate già l'applicazione di monitoraggio pubblica su Github. Quella del podcast è su Github attualmente privata. Vedo di sistemare un paio di cose e poi anche quella sarà pubblica su Github se volete comunque andarla a vedere. Ma l'applicazione di monitoraggio ha già all'interno sia il codice degli El Check, sia il codice della parte di UI con relativa personalizzazione dei CSS. Quindi credo sia un'applicazione completa di tutto come esempio funzionante. e quindi ve la potete scaricare e andare a provare. Utilizza Sprint Identity per l'autenticazione, in modo da proteggere la parte di UI e per il resto tutta configurazione. Ok. Ottimo, non vedo altre domande, quindi grazie ancora a tutti per la partecipazione. Ci vediamo al prossimo evento. Ciao. Ciao. Ciao.